ciao a tutti bentornati nel mio canale come state e da un po che non registro un video sono ritornata con questo unboxing davvero scintillante dal sito di... aspettate vi mostro il pacchettino il sito è DoiTu e sono davvero contentissima di mostrarvi cosa c'è all'interno di questo pacco questo video è in collaborazione appunto col sito DoiTu e adesso vi mostro cosa ho scelto dal sito prima di mostrarvi cosa ho scelto dal sito di DoiTu voglio mostrarvi il codice sconto che mi ha offerto appunto il sito che è Giulia35 per avere il 35% di sconto su tutti tutti gli articoli presenti appunto sul sito anche gli articoli che sono in promozione quindi un ulteriore sconticino non fa male a nessuno che poi non è sconticino uno sconticione e quindi spero che vi possa far piacere Giulia35 è davvero semplicissimo per appunto avere il 35% di sconto sul sito di DoiTu.com ovviamente prima c'era lo sconto del... sul sito troverete lo sconto del 30% ma a me hanno dato il 35% quindi buon shopping io già ne ho approfittato ho approfittato ho utilizzato il mio stesso codice sconto per fare acquisti quindi non vi dico altro adesso vi mostro cosa c'è in questa scatolina ed eccolo qua è tutto bel imballato e ovviamente qui già questo è un video in collaborazione cioè tutti i prodotti mi sono stati offerti da DoiTu e c'è anche l'omaggio quindi davvero davvero grazie adesso vi mostro cosa c'è in questo pacchettino accantoniamo la scatola, aspettate e vi mostro cosa ho scelto dal sito ovviamente ci sarà un tutorial in collaborazione con il sito DoiTu allora scartiamo piano piano creiamo suspense allora ho preso un bel po' di cosine allora lo prendo un po' a random ho scelto le Rocail queste qui sono le 15.0 della Miyuki e sono le Duracat Galvanizer di Yellowed Gold come vedete la bustina è bella cicciottella perché sono 20 grammi di perline infatti il sito di DoiTu molte colorazioni, molte perline le vende appunto in pacchettini da 20 grammi quindi ottimo per noi creative che vogliamo sempre avere le confezioni belle piene poi ho preso le perle di Mallorca tonda liscia da 4 mm questo è il filo da 40 cm e sono stupende davvero davvero stupende vedo l'ora di utilizzarle tra l'altro ci sarà un progettino molto molto carino che farò in collaborazione con DoiTu poi ho preso le perline queste qui sono le Delica della Miyuki e sono le 799 e sono le D&I Semi Frosted Opac Lavander e sono davvero uno spettacolo queste perline questo è il colore sperando che renda anche in videocamera però sono davvero davvero belle poi ho scelto ovviamente delle basi per spille in argento e sono esattamente 10 pezzi all'interno della confezione quindi andremo a fare una spilla perlinosa e scintillante poi ho scelto questo cabochon parpuca da 18 mm ed è esattamente l'Opac Amethyst Bronze ed eccolo qua ed è uno spettacolo questo cabochon davvero davvero stupendo con tutte queste screziature davvero bellissimo poi ho preso queste che sono una catenina a palline in oro da 3 mm questo è il codice ed è una catenina che di solito viene messa con i ciondolini e ho pensato di lavorarla appunto in Bid & Brodery e vedremo un po' il risultato per dare un po' di lucentezza invece di utilizzare la catena a strass utilizzare appunto questa catena a palline e l'ho presa anche in un'altra misura eccola qua questo è il codice catena a palline questo è da 2.4 mm è piccina rispetto all'altra quindi per mettere dei piccoli segmenti che poi vanno a dare colore e lucentezza ancora di più alla creazione davvero davvero carinissima questa catenina poi ovviamente si può utilizzare anche come catena normale per poi appendere qualsiasi pendente o medaglione poi ho preso anche queste queste sono le perline le rocaille della Miyuki sono le 457L aspettate che non mette a fuoco il telefono e sono le metallic light bronze queste qui la confezione appunto da 20 grammi il pacchettello è cicciucisissimo e sono davvero belle bellissime poi tra l'altro queste con l'oro sono perfette con l'oro e ovviamente tutti i colori dell'ametista del viola che ho scelto ci stanno perfettamente poi ho preso i Bicono Swarovski da 4mm e questi sono gli Amethyst Shimmer 2x e sono uno spettacolo all'interno della confezione sono 60 pezzi ma cioè ditemi un po' cioè che colore è questo è un colore stupendo io poi chi mi segue da tanto lo sa che io vado pazza per il colore ametista cioè impazzisco proprio viola ametista lilla sono i miei colori poi sempre abbinati ovviamente all'oro e al bronzo e davvero davvero spettacolo ovviamente sul sito di 2i2 c'è una vastissima gamma di Swarovski quindi approfittatene anche con il codice sconto giù 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 le 35 perché farete proprio incetta farete tipo la scorta di tutti gli Swarovski e questi poi sono i rivoli chaton questi qui sono tanzanite sono 8 pezzi questo è il codicino e sono da 10 millimetri ho preso anche questi rivoli da 10 perché ovviamente all'interno di una spilla cioè non ce li metti 2 Swarovski 2 rivoli e quindi qui ce ne sono 10 verrà proprio una spilla stra 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 luminosa eccoli qua tutti quanti aspettate che non riesco a girarli tutti eccoli qui eccoli qua sono uno scintillio unico ovviamente questi qui da 10 possono essere anche utilizzati per creare dei graziosissimi perni per degli orecchini a perno cioè sono stupendi e poi li ho presi anche i rivoli anche da 14 questi qui sono rivoli da 14 millimetri in colorazione amethyst e questi sono esattamente 4 pezzi aspettate che ve li mostro anche dal vivo senza far casino o danno ecco qua ed eccoli qui gli swarovski sono sono stupendi aspettate l'appoggio è uno spettacolo poi in questa colorazione come dicevo prima sono fissata con l'amethyst poi ho scelto aspettate che ci sono anche altre cosine altri bicono swarovski questi sono sempre da 4 millimetri sono i violet AB 2x anche questi uno spettacolo cioè guardate che stupende queste colorazioni tutte quante insieme sempre se il telefono partecipa e mette a fuoco cioè una più bella dell'altra sono davvero delle colorazioni spettacolari e questi bicono sono wow poi insieme a questi cioè sono adorabili guardate quanto è sfumatore e poi ho preso anche le locaille aspettate eccoli qua ho preso due confezioni non me ne ero accorta di aver inserito due quantità quindi ho 40 grammi di perline perché ogni confezione dà 20 grammi e queste sono le sempre della miyuki locaille della miyuki sono le lined light ametista AB 11.0 ma anche questo è uno spettacolo di colore magari in videocamera non rende tanto con questo con questo faretto puntato ma vi posso assicurare che sono davvero spettacolari cioè somigliano tanto a questo a questo qui dal vivo magari non non riuscite a catturare tutti i vari riflessi che danno queste queste perline però vi posso assicurare che le foto sul sito sono davvero davvero perfette quindi si riesce a capire anche il colore dalle dalle foto e poi ho preso in ultimo infatti la posizione ok ho preso il fireline da 0,17 non riesco neanche più a parlare sono emozionata il fireline da 0,17 45 metri e questo qui è lo smoke e vi consiglio anche di di approfittare di prendere anche il filo qualsiasi cosa poi sul sito di Doitu oltre al filo le perline questo è appunto la colorazione smoke dicevo sul sito di Doitu c'è anche la resina la resina UV io infatti ne ho approfittato ho preso la resina UV dal pacco colori da 100 grammi e anche un colorante e quindi attendo il mio piccolo ordine e poi ovviamente svaroschi perline perline ovviamente della Miyuki i svaroschi rivoli ci sono anche i bicono le gocce ci sono davvero tante 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 cosine svaroschi quindi date un'occhiata al sito vi metto il link nell'info box vi metto anche ovviamente il codice sconto giure 35 per avere il 35% di sconto su tutti 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 i prodotti presenti sul sito anche quelli scontati quindi andate a curiosare andate a spulciare fate come ho fatto io che sono state a giorni sul sito di Doitu a scegliere i materiali e i prodotti io spero che questo video sia stato di vostro cadimento lasciatemi un like e un commentino ovviamente ci sarà un tutorial in collaborazione con il sito Doitu e faremo insieme una spilla quindi con tutto questo ben di indio andremo a creare una spilla tutta scintillante vi mando un bacio grandissimo e a presto con il tutorial ciao ciao Grazie a tutti.